Continua la crisi del Manfredonia Calcio che domenica scorsa è uscita sconfitta per due reti a zero dal Fittipaldi di Francavilla Insigni. I padroni di casa, già in vantaggio al settimo grazie al gol di Romano, la chiudono poi al venticinquesimo della ripresa con Esposito, che a seguito di un cross di Visconti dalla destra, di testa batte Sapri. Successivamente i Lucani controllano la partita fino alla fine. I bianco celesti invece hanno mantenuto soprattutto nella prima frazione di gioco un pressing costante ed un buon possesso a palla senza però riuscire a superare la difesa del Francavilla. La classifica reclama punti, sottolinea mister Panarelli, al di là del gioco dice c'è da lavorare tantissimo perché al minimo errore ci puniscono e quindi dobbiamo lavorare intensamente, dobbiamo pensare già alla prossima gara, non c'è tempo. Il campionato è ormai iniziato da parecchio, non possiamo, dice ancora Panarelli, perdere altro terreno. I sipontini occupano infatti la penultima posizione insieme al Fasano con soli quattro punti. Ora spazio al turno infrasettimanale contro il Nardò, settimo in classifica, fissato per mercoledì pomeriggio alle 15 al Miramare. Sarà il signor Alessio Amadei della sezione di Terni a dirigere l'incontro, valevole per l'ottava giornata di Serie D, Girone H. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Scipione della sezione di Firenze e Rossini della sezione di Genova.